Non ho potuto fare a meno neanche io di leggere l'ultimo libro di Bressanini, anche perché sono temi che tratto da almeno il 2007 e ho pubblicato tre libri a riguardo. L'ho trovato molto utile per chi, al contrario mio, non ha alcuna nozione in chimica della detergenza. Il libro è questo, La scienza delle pulizie di Dario Bressanini. È la versione molto più approfondita e ovviamente dal punto di vista chimico di ciò che ho già trattato nei miei libri, in particolar modo in Pulizie creative che è uscito nel 2021. La filosofia di Dario Bressanini è la stessa del mio libro. Cerchiamo di capire come funzionano i vari prodotti chimici e i vari prodotti per la detergenza casalinga senza mischiare prodotti a casaccio, senza cercare soluzioni a casaccio su internet. L'altro approccio che condivido di Bressanini è il fatto di essere molto contrario ai green claim, su quelle scritte che trovate sulle confezioni di detersivi che non vogliono dire assolutamente nulla e spesso vogliono semplicemente dire a norma di legge. Nonostante io mi occupi di detergenza da più di 15 anni, soprattutto con il contributo di chimici specializzati in detergenza, ho imparato anch'io delle cose dal libro di Bressanini. Ho imparato in particolar modo tre cose. La prima che igienizzare è diverso da disinfettare. Poi ho imparato che il lavare china non inquina tanto quanto pensavamo. Ovviamente va sempre usata con molta parsimonia. E poi ho imparato che cosa serve il sale per la lavastoviglie, nonché che è forse meglio comprare quello apposito e non quello da cucina che si trova normalmente al supermercato. Il libro ha anche alcuni difetti, in particolar modo che è molto lungo, a volte un po' troppo tecnico, soprattutto per chi non è addentro all'argomento, e in alcuni punti è piuttosto ripetitivo. Ci sono delle cose nel libro di Bressanini che non mi aspettavo e che mi hanno piacevolmente colpita. Innanzitutto che non serve disinfettare la casa come se fossimo in un ospedale. E questo è bene che venga ribadito da un chimico e spero che almeno un chimico le persone lo ascoltino. Un'altra cosa che non mi aspettavo dal libro ma che ho apprezzato tantissimo è che Bressanini sottolinea come sia molto importante utilizzare correttamente gli elettrodomestici e farne un uso parco in modo da avere un minore impatto ambientale. Per concludere, ed è forse il motivo principale per cui consiglio la lettura di questo libro, è che alla fine del libro dovreste aver appreso un metodo per utilizzare in maniera sensata i detersivi, in modo tale da non mischiare prodotti a caso, in modo da non utilizzare sostanze chimiche a caso e tutto questo comporta un minore impatto ambientale. Bressanini spiega infatti come il sistema migliore per pulire casa e più efficace sia quello di riconoscere i vari tipi di sporco e sulle diverse tipi di superfici agire con il giusto prodotto. E in ultimo una speranza. Spero che tutte le persone che sono convinte che l'aceto inquini terribilmente leggano questo libro.